I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile da Compagnia di Ivrea hanno arrestato in fraganza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne incensurato di Montalto d'Ola. Mercoledì, in tarda serata, i militari dell'arma hanno prequisito l'abitazione nella rispettura del giovane, rinvenendo e sequestrando complessivamente 57 grammi di marijuana, 6 grammi e mezzo di ascice, 180 ml di metadone, 9 grammi di eroina, nonché bilancini e la somma di 1165 euro in contanti ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio. Sostanze stupefacenti, materiali e denaro sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane è stato dichiarato in arresto per attenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione della procura di Ivrea è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.